un buon pomeriggio a tutti e grazie per essere qui presente questo pomeriggio e noi abbiamo voluto fare questo momento di riflessione in continuità praticamente con quello fatto nel luglio scorso sul lavoro dignitoso in agricoltura e in vista poi della giornata mondiale per l'alimentazione che quest'anno sapete si celebrerà il 15 ottobre perché il 16 sabato abbiamo voluto essere presente come forum insieme alla missione permanente della Santa Sede presso la FAO come abbiamo fatto già negli anni scorsi tranne lo scorso anno che eravamo nel pieno della pandemia e in realtà abbiamo saltato l'appuntamento c'è un evento di riflessione in vista di questo appuntamento sul tema generale anche della giornata di quest'anno che sapete sul discorso della trasformazione dei sistemi agroalimentari per costruire un futuro senza senza fama e l'incontro di quest'oggi quindi punta vuole puntare l'accento sul discorso dei sistemi alimentari sistemi alimentari che possano appunto aiutarci aiutarci a in qualche modo a effettuare concretizzare una produzione migliore una nutrizione migliore ma anche un ambiente migliore e direi una vita migliore e qui siamo interpellati direttamente direi come organizzazioni non governative di ispirazione cristiana soprattutto di ispirazione cattolica perché se è vero poi che i sistemi vengono governati appunto dai governi non da noi però noi abbiamo una grossa responsabilità nel proporre nuovi stili di vita che aiutino questo cambiamento culturale di cui c'è bisogno perché eh tutto il problema si avvie a eh a soluzione il problema della fame il santo padre lo ha richiamato più volte anche nelle ultime settimane è un problema ancora grave noi rimettiamo al centro di ogni riflessione eh la persona perché vogliamo ripartire e partire dalla eh dalla persona eh ringrazio in particolare il di Castero per lo sviluppo di Castero per lo sviluppo umano integrale che ci ci ospita in particolare il suo presidente il cardenale Tarkson che tra poco ci rivolgerà la sua parola eh ringrazio la segretaria di Interim suora Alessandra Smerilli che è qui anche con noi e ci offrirà la sua riflessione e ringrazio anche gli altri relatori che ci aiuteranno a ad entrare nel merito di questi temi a noi poi il compito di eh proseguire in questa riflessione ma soprattutto di concretizzare eh questa riflessione in azioni eh quotidiane in cammini di formazioni in atti concreti eh eccetera e questo sarà il lavoro che ci attende nelle prossime settimane che continueremo a portare avanti sempre con la guida del dell'osservatore permanente della Santa Sede Monsignor Fernando Cicaregliano che ringrazio soprattutto per la presenza per quello che ci dirà ma soprattutto per il sostegno e l'ingoraggiamento a proseguire questo questo nostro lavoro e darei subito la parola eh allora la sua eminenza del cardinale per il suo intervento iniziale. Grazie Grazie signor Conso per le sue parole di introduzione e credo che sono stato chiesto a me di di salutare in inglese o spagnolo non so in inglese quindi so so i guess i'll probably switch wavelengths and then you know address you in 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 English and it is to express the great joy of this dicastery for the opportunity to to host this this webinar and be part and be part of this conversation on resilient inclusive sustainable for systems and with emphasis on moving from words to action. This really is a spirit of the period everything that we'll be doing these days from this full summit to the climate change and everything would be an invitation and if indeed an encouragement to move from words to action. So on behalf of this dicastery then would like to gradually thank the permanent observer of the mission permanent mission of the whole issue to follow to effort and to the world food program for the organization of this event that calls for further reflection on the need to translate thoughts into concrete and collective action in the aftermath of the UN food security systems as you all know with the outbreak of the COVID-19 pandemic we discovered the true extent of our interconnectedness the virus has exacerbated all pre-existing inequalities and crisis in our social systems including the way we produce food and we might even add and the feeding culture of people and groups around the world from the over exploitation of natural resources to the huge quantity of amounts of food that go waste daily we finally become aware of the injustices present in our global agri-food systems and now we came to the need to change for the sake of food justice and sustainability we learned that in today's world the three key drivers of a hunger may be captured in these three seas as it were the sea of conflict the sea of COVID-19 and the sea of climate change their combined devastating effect on all stages of the food supply chain is indeed alarming as Pope Francis noted on the occasion of the world food day October of last year for humanity hunger is not only a tragedy it is also shameful we currently produce according to the pope more than enough food for the entire planet but still millions do not have enough food to eat and this he finds very shameful as whenever food is thrown out it is as if it was stolen from the table of the poor indeed years back at the beginning of of christianity saint christostom says similar things to rich people and said any food that it will win have is a theft from the poor so hunger then according to Pope Francis in subsequent encyclical fratelli tutti is criminal sin food is an inalienable right so precisely then as he as Pope Benedict XVI had explained in his secret letter characters in veritata the right to food like the right to water has an important place within the pursuit of other rights beginning with a fundamental right to life it is therefore necessary to cultivate a public conscience as it were that considers food and access to water as universal rights of all human beings without extinction or discrimination so as we have heard during the pre-un food system summit that met here in rome and the actual summit in New York food insecurity is not simply a lack of food food insecurity and food injustice stems from a series of economic ecological political social and cultural factors that affect all stages of food production systems affecting the ability to produce food for all therefore the food crisis is a complex matter demanding holistic solutions reimagining and regenerating food systems in the post-covid 19 pandemic era requires an integral ecology approach capable of promoting systemic action approach towards inclusive sustainable and resilient food systems in the future with this ultimate objective in mind and from the Catholic faith we can offer two fundamental principles of the dignity of each human being and the common good as as it were great guys or northern stars in making decisions in lie in the light of these principles we are inevitably drawn towards actions such as these are one support and expand the development of agriculture workers and respect their innate dignity to support small producers and cooperatives that adopt less polluting and more inclusive means of food production three apply the new technologies available into the agriculture and efficient industries that help tilling and keeping the earth this would mean working working the earth while we ensure that the the earth is always capable to sustain life in the future and fourthly implement a global system that respects our common home by allowing for the regeneration of resources and distributing the fruits of the earth equitably in fact the principle of the common good is inextricably linked with the common deterred the destination of goods since it is not in accord with god with god's plan that the earth is great gift to us be used in such a way that they benefit only a few and unjustly leave behind a great part of humanity and so dear friends and participants food justice is not an impossible enterprise as reiterated by the participants at these summits we already have the means the tools and the talents to embark on this journey which is needed which uh what is needed what is needed extra to all of this is the courage to put these talents and creativity to the service of something new so what is needed is sustained political will to translate commitments into concrete action under the following items one reinforce local and global supply chains creating infrastructure both physical and digital to close the gap between small scale farmers and food market strengthen local farmers and food systems for this it will be possible truly will be possible to cut green gas emissions in all phases of the food cycle cycle and ensure resilient food production systems to elevating the needs of the most vulnerable communities in the world and bringing them to the center of international political discussions to ensure equal representation and that the preferential option for the poor is respected indigenous communities as again was said during the UN for some summit conversation small scale farmers youth groups women among others have much knowledge and expertise to offer for reconciling food production and the natural process of ecosystems thirdly promoting secular models of food production and consumption including an efficient use of resource and designing out waste along the food system cycle enhancing local and traditional knowledge to ensure better production and protection of biodiversity and a promote and to promote the sustainable use of natural resources and fourthly reforming present-day technological and financial architectures to support this transformation of the four systems particularly today in the context of pandemic recovery plans we have an unprecedented opportunity to mitigate the malicious mechanisms in these areas that contribute to financialization of the real economy and the technocratic paradigm one that treats food as just another commodity that gives rain and room to a lot of speculation fifthly changing our behaviors regarding food waste which is deplorable in the extreme and our diet into a more healthy and sustainable one so we hope and we trust that mitigating the current global food crisis is not impossible but it is a challenge that demands that we respond with concrete and collective action the covered 19 pandemic has awoken us to the urgency of pre-existing inequalities yet it also represents an opportunity to better understand the interconnectedness of these systems and to envision new paradigms for their radical transformation and so indeed the pandemic has made us sensitive to an ever graver virus affecting our world that of social injustice lack of equal opportunity and the marginalization of of the poor and those in greatest need i look forward then to a fruitful discussion this day that may help us renew energy stores building a more just world with a fairer ecological friendly food supply systems one sustainable one suitable to bring bread every day to the table of all so that the prayer that we make every day give us this day our daily bread may become real for all of us thank you for your kind attention and we wish you a very successful and a fruitful conversation this afternoon thank you grazie e grazie eminenza grazie soprattutto perché il suo non è stato un saluto formale ma ci ha offerto alcune linee di impegno direi ci ha disegnato quasi un perimetro entro cui noi ci possiamo muovere e concretizzare la nostra azione e la nostra testimonianza grazie veramente di cuore e credo di interpretare i sentimenti di quanti ci stanno seguendo appunto nel ringraziare nel dire ringraziarle nel dire queste queste cose dopo il suo intervento andiamo avanti con gli interventi programmati e darei subito la parola dopo il presidente il segretario al intervento del di castello sono alessandra smerilli rinnovante di ringraziamento per tutta la disponibilità anche per organizzare questo momento qui nel pomeriggio grazie prego grazie questo webinar si intitola sistemi alimentari resilienti inclusivi e sostenibili dalle parole ai fatti ma io comincio con qualche parola perché mi è stato chiesto di raccontare un po di rileggere l'esperienza del pre vertice sui sistemi alimentari alla quale abbiamo partecipato con una delegazione della santa sede insieme a monsignor c che rappresentanti della missione permanente della santa sede presso eh fao ifa ifa de pam e ma non abbiamo solo partecipato come commissione eh vaticana covid eh commissione istituita da papa Francesco nel duemilaventi per eh pensare alle conseguenze economiche e sociali della pandemia e su in questa per questa commissione papa Francesco ci ha dato tre priorità che sono salute per tutti lavoro per tutti e cibo per tutti e quindi per rispondere a questo appello di papa Francesco eh ci siamo eh messi a lavorare su questo tema del del cibo dell'alimentazione e quindi abbiamo creato sinergie con quanti si stanno occupando di questi temi eh oggi vorrei dire innanzitutto grazie per questa opportunità che ci è data di condividere questa esperienza e devo dire che è stato un bel momento quello di poter condividere in particolare con eh monsignor Cica l'esperienza del la preparazione e l'esperienza del prevertice quello che ne è seguito eh per identificare il contesto in cui siamo il prevertice dei sistemi alimentari dell'ONU delle Nazioni Unite si è tenuto a Roma lo scorso eh ventisei ventotto luglio per mh era un po' secondo le parole di Amina Mohamed eh il luogo in cui eh si sarebbe preparata la torta da infornare poi al vertice sui sistemi alimentari tenutosi a New York il ventitré settembre eh quella del prevertice sui sistemi alimentari è stata un'opportunità per creare convergenze tra i partecipanti che comprendevano rappresentanti di Stato, della società civile, del mondo accademico e del settore privato e eh è un'opportunità anche per sottolineare l'importanza dell'azione concreta e collettiva verso un cambiamento radicale dei sistemi alimentari ed è stata anche un'occasione di condivisione di buone pratiche che possono portare verso un mondo migliore in cui nessuno rimanga senza il suo pane quotidiano. Il prevertice è stato il culmine di un anno e mezzo di preparazione il cui obiettivo era quello di cercare di disegnare un vertice che non escludesse nessuno e forse questo è stato uno dei punti salienti del prevertice il fatto che abbia generato lo spazio per la partecipazione di attori che normalmente non vengono ascoltati in eventi internazionali e per questo si è messo in atto un processo di consultazione tramite diversi canali di dialogo. Ci sono stati global summit dialogues organizzati insieme alla special envoy del vertice la dottoressa Agnes Calibata che hanno sottolineato l'importanza di costruire sistemi alimentari resilienti e sostenibili e questo è stato fatto in riunioni politiche e di organizzazioni internazionali di alto livello. Poi ci sono stati tanti dialoghi nazionali organizzati da autorità di diversi paesi che hanno cercato di formulare delle erano appunto dialoghi in cui si cercava di arrivare a delle posizioni comuni e non solo ad impegni comuni e percorsi verso sistemi alimentari sostenibili a livello nazionale. E poi c'erano i dialoghi indipendenti aperti al pubblico che hanno cercato di coinvolgere attori e prospettive che erano sia gli attori sia le prospettive più diversi possibili. Sono stati organizzati circa 800 di questi dialoghi nel mondo. Anche noi nel nostro piccolo abbiamo partecipato a questa consultazione organizzando tre webinar. Uno proprio organizzato insieme alla missione permanente della Santa Sede presso FAO, IFAD e PAM e il Foro di Roma delle ONG di ispirazione cattolica ed era sul tema sul ruolo delle donne nella promozione dello sviluppo umano integrale e nell'ambito dei sistemi alimentari. Un secondo webinar è stato incentrato sui temi del lavoro, dell'innovazione e della finanza a servizio della giustizia alimentare e anche l'ultimo organizzato insieme anche alla Segreteria di Stato su conflitti e futuro dei sistemi alimentari. In queste occasioni abbiamo raccolto diverse e preziosissime testimonianze provenienti da ONG, movimenti sociali, abbiamo ascoltato idee del mondo accademico, dal settore pubblico, dal settore privato e anche di tanti esperti di FAO, IFAD e PAM e dai quei dialoghi almeno io mi porto via soprattutto l'impegno concreto e tante buone pratiche già esistenti che andrebbero messe a sistema per poter generare quel cambiamento di cui abbiamo bisogno. Durante il prevertice anche lì noi abbiamo potuto partecipare in parte in presenza c'è stata una grande occasione di scambio e anche in questi nel prevertice siamo stati presenti anche come di Castero innanzitutto tramite la partecipazione del nostro prefetto il Cardinal Torxon come relatore in un panel dedicato alle popolazioni indigene e tramite l'organizzazione eh fatta insieme ai giovani di Economio Francesco di un side event ehm dal titolo People and the Planet Youth Bringing Meaning and Action to Food Justice. È stata un'esperienza molto interessante preparare questo eh webinar, questo evento insieme ai giovani ed è stata per noi anche un'esperienza costruttiva e formativa perché eh quando si elaborano proposte eh se lo si fa partendo dall'ascolto come Papa Francesco ci chiede e dal dialogo con chi lavora sul campo le proposte eh sono più incarnate. Che cosa qual è il messaggio che ci portiamo via eh da questa da questa esperienza? È stato già detto e forse eh i dati mh sono su Pefli in qualche modo però eh sappiamo che eh viviamo in un mondo il covid ce lo ha dimostrato eh dove i sistemi sono i sistemi alimentari intrinsecamente ingiusti perché produciamo cibo per tutti ma non tutti hanno la possibilità di mangiare quindi sappiamo che c'è qualcosa che non funziona nel sistema eh più di ottocento milioni di persone soffrono a causa di povertà e di mancanza di cibo e ehm ovviamente tra i temi trattati nel prevertice c'è ehm è stato particolarmente rilevante studiare l'impatto della pandemia da covid diciannove che ha contribuito a peggiorare una situazione già di per sé drammatica e ha rivelato il nesso esistenze tra disuguaglianza povertà alimentazione malattie e salute del pianeta e a pagare il prezzo più alto sono state le persone più vulnerabili in particolari donne e bambini proprio secondo i dati eh della FAO nel duemilaventi tra settecento venti e ottocento undici milioni di persone nel mondo sono andate a letto a stomaco vuoto mentre circa tre miliardi quasi la metà della popolazione mondiale continua a non avere accesso a diete sane e nutrienti parliamo del mondo ma ne ho avuto l'esperienza anche qui a Roma di bambini che con la didattica a distanza in alcune periferie di Roma hanno perso l'accesso al loro unico pasto quotidiano che era quello della mensa scolastica anche questo è stato già detto dal dal prefetto il cardinal Torxon che eh ha aperto questi lavori conflitti cambiamenti climatici impatto del covid e shock economici rappresentano le cause principali della fame più volte nei lavori di preparazione nel vertice è emerso come il cibo sia un diritto umano e non un privilegio non può essere un privilegio e quindi abbiamo bisogno di creare sistemi che rispettino la dignità umana e per questo siamo tutti consapevoli che è necessaria una profonda trasformazione olistica dei sistemi alimentari attuali questa trasformazione emerso chiaramente nel vertice deve essere affrontata secondo un approccio sistemico che includa tutte le fasi dalla produzione alla lavorazione alla distribuzione al consumo allo scarto di alimenti e deve essere pensato secondo le tre dimensioni della sostenibilità ambientale sociale ed economica al tempo stesso e la sfida che abbiamo davanti l'agricoltura si è visto è parte della soluzione che ci consentirà di costruire nuovi modelli di sviluppo e per questo durante il vertice si sono scambiate idee sulla necessità di utilizzare e implementare le tecnologie a servizio di una maggiore resilienza del sistema e anche nei webinar preparatori che noi abbiamo fatto abbiamo imparato abbiamo visto tante esperienze di come la tecnologia può aiutare soprattutto i più vulnerabili e va utilizzata soprattutto in questo senso si è vista la necessità di accelerare la transizione ecologica ed energetica per il clima e sappiamo che questo è un tema importante in vista anche della cop 26 e della cop 15 investire in ricerca e sviluppo nel lungo termine per trovare soluzioni necessarie a produrre generando meno emissioni e senza danneggiare l'ambiente infine elaborare politiche che sostengano modelli economici più circolari facilitino il sostegno finanziario creino un ambiente favorevole per i piccoli produttori le famiglie di agricoltori diano speciale attenzione alla realtà delle piccole e medie imprese ma non solo se abbiamo bisogno di politiche che che si che pongano attenzione a tutto questo abbiamo bisogno di un settore privato e anche di grandi imprese che escano dalla narrativa non possiamo fare diversamente e ce ne sono tante c'è tutto il mondo per esempio delle benefit corporation delle società benefit in italia che per statuto devono in qualche modo lavorare nel rispetto dell'ambiente e secondo una sostenibilità sociale economica ed ambientale e questi esempi servono per di per dire che si può essere grandi imprese ma nello stesso tempo eh lavorare per migliorare i sistemi alimentari e non per contribuire allo sfruttamento della terra e a generare le disuguaglianze. Infine il ruolo delle politiche è necessario per dare attenzione alle donne al ruolo delle donne e dei giovani alle comunità di indigeni come protagonisti del cambiamento non come soggetti che devono ricevere speciali attenzioni si devono riceverle perché vulnerabili ma riuscire a scoprire il potenziale che hanno da offrire per migliorare i nostri sistemi. Su quest'ultimo punto nelle giornate di vertice sono emerse tre categorie verso cui orientare l'azione per rendere i sistemi alimentari più inclusivi. Donne piccole produttrici delle aree rurali a cui deve essere garantito l'accesso alla terra e al credito in modo che possano fungere da catalizzatrici e facilitatrici della transizione. I giovani che vanno visti come protagonisti del cambiamento di oggi non di domani i giovani non sono il futuro sono l'adesso perché la trasformazione dei sistemi alimentari è anche una questione di giustizia tra generazioni e infine popoli indigeni che rivestono un ruolo fondamentale nel preservare e custodire la natura, le tradizioni, le culture. Infine da segnalare il riferimento alla centralità della persona nel contesto di un approccio di trasformazione dei sistemi alimentari più volte è stata la necessità è stata sottolineata la necessità di un pieno coinvolgimento nella lotta alla fame nel processo di trasformazione dei sistemi alimentari dei diversi stakeholders quali settore pubblico privato e università. Si è parlato tanto di partneri sono state lanciate coalizioni che vanno ad intercettare a far mettere insieme tutti coloro che in qualche modo vogliono impegnarsi eh sui temi più urgenti e sono certamente da da favorire da appoggiare da stimolare queste coalizioni. Infine il prevertice il vertice sono la dimostrazione che lavorando insieme è possibile ricostruire non tornando indietro ma facendo qualcosa di migliore dopo il covid diciannove e anche raggiungere gli obiettivi dell'agenda venti trenta. I governi da soli non possono realizzare questo ambizioso programma perché questo richiede anche una nuova mentalità. Il pre-summit credo che abbia generato una nuova energia per sostenere i cambiamenti sistemici nei sistemi alimentari di tutto il mondo. È stato un grande onore per noi portare il messaggio del Santo Padre al prevertice dove Papa Francesco ha invitato tutti i partecipanti a sognare in grande e non è un'ingenuità. Sognare per un sistema alimentare che risponda ai valori del bene comune alla solidarietà, alla cultura dell'incontro basato sulla responsabilità, sulla giustizia, sulla pace e sull'unità della famiglia umana. E come sempre ci ha invitato a seguire e realizzare questo sogno con dei passi concreti avviando dialoghi autentici, audaci e coraggiosi, esaminando le radici del nostro sistema alimentare ingiusto. La via verso un cambiamento trasformativo richiede un impegno congiunto e un monitoraggio costante degli indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile perché si possa tener traccia dei progressi compiuti. Ma noi come di Castero siccome è difficile monitorare gli obiettivi di sviluppo e è un compito che è demandato di più a stati, a organizzazioni che scientificamente possono studiare questo, noi come di Castero abbiamo pensato, di rendere questi obiettivi più fruibili alle persone di buona volontà. E quindi si sta per lanciare, c'è già un sito, una piattaforma chiamata piattaforma di azione Laudato Si, Laudato Si Action Platform, che è un cammino che vuole essere per sette anni rivolto a sette categorie di persone, famiglie, diocesi, parrocchie, istituzioni educative e anche università, centri di cura, mondo delle imprese e del lavoro, perché tutti possano fare la loro parte per raggiungere quelli che abbiamo chiamato i sette obiettivi Laudato Si. Abbiamo ridotto a sette semplificato perché in questo modo per le persone è più semplice trovare passi concreti da fare e la piattaforma vorrebbe diventare uno spazio di dialogo, di azione, di mappatura di quello che ciascuno può fare. Questo può essere il nostro piccolo contributo a favorire un cambiamento anche dei sistemi alimentari in modo che si possa passare davvero dalle parole ai fatti. E grazie dell'attenzione. Grazie a lei, sua Alessandra. Ci ha messo parecchie cose sul sul tavolo che ha sottolineato nuovamente quella che poi può essere anche la nostra responsabilità e non ultimo questo annuncio finale che certamente ci coinvolgerà che però poi richiede una risposta concreta rispetto agli obiettivi e quindi in questo senso abbiamo ancora molta diciamo c'è molto da fare cioè siamo inchiodati rispetto alle nostre responsabilità perché il sognare in grande che richiamava sua Alessandra che appunto il messaggio del Papa si può realizzare se riusciamo a fare i sogni però i sogni non si fanno solo quando si si dorme ma si fanno concretamente nella vita di ogni giorno misurandosi con i problemi concreti e lei oggi ci ha richiamato molto su questi su questi aspetti poi casomai se abbiamo tempo ne farò anche una domanda su uno o due cose che eh ha richiamato eh prima. E quindi grazie a sua Alessandra anche appunto per questo intervento e passerei la parola alla dottoressa Maria Elena Semedo che vice direttore generale della FAO per il clima e le risorse naturali. Alessandra ha richiamato molto nel suo intervento anche tutto questo discorso appunto del clima delle risorse naturali. Adesso la parola alla dottoressa Semedo che è una che ha diciamo le mani in pasto su queste cose. Grazie dottoressa. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Good afternoon. Eh Dr. Vincenzo Consul. Eh Your Eminency Cardinal Turkson, Suor Alessandra, Monsignor Fernando Cicca, Permanente Observer of the Holy Seat to FAO E5 WFP. And my dear friend, Dottore Garat Perez, Chairman of the International Coalition of Fisheries Association, Distinguished Guest, Ladies and Gentlemen. It is a pleasure and an honor to be with you today in this webinar on Resilient, Inclusive and Sustainable Food System, From Words to Action. A lot has been said by Cardinal Turkson and Suor Alessandra, but let me give you the view of the Food and Agriculture Organization. This webinar comes at a very critical time. The Covid-19 pandemic upturned the world, exposing the fragility of our relationship with nature and our agri-food system. More than a year into the pandemic, we are witnessing the scale of its long-term effects on global food security. Indeed, the 2021 edition of the State of the Food Security and Nutrition in the World shows that 811 million people went hungry last year. And it has been said that it is a human right, the right to food. More than half in Asia and more than one-third in Africa. And nearly 3 billion people, 3 billion people cannot afford or have access to a healthy diet. An increase of 320 million in just one year. The pandemic combined with continued conflict, climate change, biodiversity loss and economic slowdown, and downturns and downturns are steering us away from ensuring a sustainable future for generations to come. Achieving the Sustainable Development Goals is moving further from our reach. We must go back on track by putting human capital, and a lot has been said about the human capital and people, at the core of our actions to end hunger and poverty while protecting nature. Building green and inclusive agri-food systems is one of the most powerful ways to recover from our crisis. And we can. Nothing should hold us back. We have the knowledge, the data, and the solutions. Ladies and gentlemen, agriculture and food systems are the world's largest economic systems in terms of employment, livelihoods, and planetary impact. Globally, around about 450 billion US dollars are spent a year supporting agri-food systems, at a time when many countries' public finance are saddled by the pandemic. It is unacceptable that over half the support contributes to distorts price and unsustainable production with negative impacts on the environment. Worse, most small farmers do not have access to a financial lifeline. All this in a world where we need to achieve land degradation neutrality, increase efficient water use in agriculture, and reach the Paris Agreement targets. In this context, as Sir Alexandra said, the United Nations Secretary General called for the Food Systems Summit that just ended with a resonating cry for action to sustainably transform our agri-food system. To nourish all people, to boost nature-based solutions of production, to build resilience to vulnerability, shocks and stresses, advance equitable livelihoods, decent work, empower communities, and ensure means of implementation. All areas where the food and agriculture organization of the United Nations has been deeply engaged since its creation 76 years ago. FAO, FAO working with our sister agencies, the UN systems, members and partners, will take a leadership role to ensure that the summit's follow-up becomes a catalytic opportunity for the benefit of people, farmers and all stakeholders of agri-food systems. We know that access to healthy diets can contribute to reducing costs related to both the health and the climate crisis by 2030. We must eliminate bottlenecks that stifle potential by increasing institutional coordination, upscaling talent and knowledge, and making agriculture an attractive future of our youth. And this is also very important, how we bring the youth back to agriculture. We need to invest in long-term research and development to unlock innovation and technologies needed for producing more with less emissions, for more sustainable landscapes and seascapes. Globally, about 540 billion US dollars are spent per year supporting agri-food systems, at a time when many countries' public finance are constrained in the face of the pandemic. We must find ways to repurpose this support. Ladies and gentlemen, FAO Strategic Framework 2022-31 is a blueprint with a clear narrative to support the 2030 Agenda through the transformation to more efficient, inclusive, resilient and sustainable agri-food systems. For better production, better nutrition, a better environment and a better life, leaving no one behind. Better production means ensuring efficient, sustainable consumption and production patterns, inclusive food and agriculture supply chains, at local, regional and global levels. Better nutrition aims at ending hunger, promoting nutritious food and increasing access to healthy diets, which can be fostered by tackling food loss and waste, and making sure that markets and trade are accessible and open. Better environment is about protecting, restoring and promoting sustainable use of terrestrial and marine ecosystems, and combating climate change through reduction, reutilization, recycling and residual management approaches. A better life implies reducing inequalities between urban and rural, rich and poor, men and women, and promoting inclusive economic growth. The three dimensions of sustainable development, economic, social and environment are fully anchored in the four factors. To maximize efforts and optimize trade-offs, the strategic framework also established four cross-cutting accelerators, technology, innovation, data and complements, governance, human capital and institutions. To implement the strategic framework, FAO has identified 20 program priority areas, and they are rooted in the four factors. Just to give you an example, for instance, better production includes green innovation, blue transformation, one health, small scale producers and digital agriculture. Ladies and gentlemen, dear participants. Today, FAO is translating aspiration into action. Our flagship matchmaking hand-in-hand initiative aims to fast-track agri-food transformation and sustainable rural development. The initiative prioritizes members, where national capacities and international support are the most limited, or where operational challenges, including natural or man-made crises, are the greatest. Repurposing means not only spending more, but also financing better. That fits hands-in-glove with modern tools of science, technology and innovation. Our geospatial platform with big data analysis highlights how digitalization is rapidly becoming a game changer in agriculture. Boosting productivity, profitability and resilience to climate change to support crucial decision-making and being inclusive. This is why we launched the Thousand Digital Village program, focusing on digital technologies that enhance farmers' access to agri-market, agri-market-oriented and social services to better delivery of public service in health, education, jobs, welfare, ecotourism and agritourism. This holistic approach brings together the digital elements to support agri-food system transformation and the rural development needed to achieve sustainable development goals. But as it has been said, we must work together. With the adoption of the FAO strategy and action plan on mainstreaming biodiversity across agriculture sectors, we are engaged with members and partners in developing an ambitious and practical post-2020 global biodiversity framework. To conserve and reverse biodiversity loss. And the COP15, who just started today in coming, we hope, will come out with a very ambitious post-2020 global biodiversity framework. To recently launch UN Decadion Ecosystem Restoration, co-led by FAO and United Nations Environment Programme, is an excellent opportunity to mobilize our collective efforts. Driven driven by FAO's mandate, we will focus on the restoration of ecosystems to enhance food security, transform agri-food systems, address climate change and preserve biodiversity. The Decadion Ecosystem Restoration coincides with the United Nations Decadion family farming, reminding us of the knowledge, tradition and best practices of the world's small scale producers, fisher folk, livestock keepers and forests. We talk about innovation, but we also need to conserve the knowledge and the tradition, also as innovative. Under Italy's leadership, the G20 material declaration, together with FAO, strengthens the food coalition in response to the COVID-19 pandemic, to leverage high-level political, financial and technical expertise in supporting countries. Resources that must be targeted towards investment in public goods and services for agri-food systems, such as infrastructure, research and development and assistance to young farmers. Our strategy for private sector engagement, the food coalition, the FAO's Green Cities Initiative, complement this and FAO COVID-19 Response and Recovery Programme. Together, we need a systems approach for building coherent portfolio of policies, investment and legislation that became a win-win solution. It has been also mentioned by Cardinal Tuxen that we need a holistic approach to solve the complexity of the problems we are facing. The right incentives can transform agri-food system from production to consumption. If we can attract an annual investment of about 40 to 50 billion US dollars until 2030 to fund targeted low-cost, high-impact intervention like agriculture research and development, innovation, digital agriculture, and agriculture, reduction of food loss and waste, literacy improvement for women and social protection programmes, we can build resilient, inclusive and sustainable agri-food systems to lift hundreds of millions of people from hunger. So, ladies and gentlemen, together we can work to eradicate poverty and hunger and malnutrition and reduce global inequalities. We count on the support of the Holy See and of all of you to make change happen now and together. Thank you. Thank you. Grazie a lei, dottoressa. Grazie per quello che ci ha detto, per alcune linee di lavoro interessante che la FAO sta facendo e per questa disponibilità eventualmente anche a trovare delle sinergie con tutto il nostro mondo vasto e variabile. È interessante questo lavoro di tradurre i desideri in iniziative. È importante in questo lavoro non perdere mai di vista l'essenza della persona. Quando si parla appunto di digitalizzazione, di agricoltura digitale, bisogna sempre comunque stare attenti a salvaguardare quello che sono le persone e il lavoro perché molto spesso questo lavoro sicuramente di modernità porta anche a ridurre molte volte la presenza delle persone. Quindi nel portare avanti questo lavoro, tenere presente tutto tutto questo che è molto è molto importante. Grazie ancora e diamo la parola adesso al dottor Savir Gara Perez che è appunto della coalizione internazionale associazione di pescatori e un ambito molto interessante del nostro sistema agroalimentare. Fino a qualche anno fa spesso ci si dimenticava di questo di questo settore e ultimamente è tornato alla ribalta molto molto forte e secondo me richiede ancora ancora un po' più di attenzione e anche soprattutto anche da parte da parte nostra. Grazie dottore per essere qui con noi e le do subito la parola. Grazie mille. Grazie mille grazie dottor Vincenzo Conso e moltissime grazie a tutti organizzatori, a la Comissione permanente della Santa Sede ante la FAO, FIDA e IPMA e al Foro di Roma di ONG di Inspirazione Catolica per la invitazione. le tengo que decir que estoy especialmente contento de estar aquí hoy porque cuando se habla de los sistemas alimentarios en estos foros muchas veces se habla muchísimo de agricultura pero se habla muy poquito de pesca y como veremos ahora la pesca también tiene su importancia voy a hacer una presentación que he preparado de PowerPoint que voy a compartir ahora mismo y que espero que todos puedan ver voy a intentar ponerla en grande bien, continúo con la presentación yo represento a la coalición internacional de asociaciones pesqueras y también a Europees, la Organización de Ámbito Europeo y a Cepesca, la Confederación Española de Pesca que es la Organización de Ámbito Español he puesto los tres logotipos aquí en esta primera portada en esta primera diapositiva porque quería lanzar el mensaje clarísimo desde el sector pesquero intentamos contribuir a nuestra manera con el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible lo he titulado la importancia de la pesca responsable en el ámbito por supuesto del seminario de estudio que tenemos hoy y he puesto esta fotografía de unos pescadores recogiendo unas redes en el puerto de Sanlúcar de Barrameda es un puerto muy especial para mí porque es el lugar donde yo nací y donde me encuentro en el día de hoy rodeado de naturaleza rodeado por el parque natural de Doñana en la desembocadura del río Guadalquivir y mirando al mar al océano Atlántico y he puesto a estos pescadores porque yo creo que tienen que ser el centro de atención de cualquier política pesquera haciendo hincapié en su dimensión humana pero luego hablaré un poquito más de ello quisiera comenzar mi exposición deseando un feliz día de la Virgen del Pilar que es la patrona de España donde yo me encuentro en este momento y un feliz día de la hispanidad a todos los presentes en el día de hoy un día importante para nosotros los españoles y para todos los iberoamericanos y día de gesta por cierto también así que estoy encantado de celebrarlo con todos ustedes la pesca se ha demostrado durante toda la pandemia es una actividad esencial y estratégica en el mundo así ha sido declarada por prácticamente todos los gobiernos todos los países del mundo y durante todo este tiempo sobre todo estos dos años han seguido trabajando para traer a nuestras mesas uno de los alimentos más exquisitos y más saludables que existen en el mundo también hablaré ahora de ello y de sus propiedades nutricionales y por qué conviene alimentarse bien con ello y estamos hablando de pescadores he puesto esta fotografía que es una fotografía a la que al periodista que la hizo le dimos un premio hace un par de años premio de fotografía refleja el pescador volviendo de trabajar un día cualquiera agotado tomándose una taza de café posiblemente y que estaba pensando en todo lo que había ocurrido durante el día y como yo pongo aquí estamos hablando de una red de buena gente los pescadores de las que en todo el mundo tenemos que estar orgullosísimos muchas veces se habla poco de ello se conoce poco la actividad de los pescadores a todos nos encanta comer un buen plato de pescado pero muchos no conocen qué es lo que hay detrás de toda esa actividad hasta llevar ese pescado a nuestras mesas trabajo por cierto durísimo con un esfuerzo que requiere unas condiciones físicas y psicológicas importantes y cuando hablo de red de buena gente imagínense cómo será que Jesucristo eligió a sus amigos y discípulos entre los pescadores ahí están los ejemplos de Pedro Santiago Juan o Andrés eso no puede ser fruto de la casualidad seguro que había un mensaje ahí y es porque como digo es una red de buena gente que hace mucho bien en la sociedad y si nos fijamos en la importancia que tiene la pesca en el contexto mundial estos son datos de la FAO hablamos de 880 millones de personas que dependen de la cadena de valor de la pesca la pesca y la acuicultura constituyen el medio de vida de más o menos el 10 12% de la población mundial la pesca marina emplea directa o indirectamente a más de 200 millones de personas en el mundo y de esos 47% de la pesca artesanal se realiza por mujeres estamos contribuyendo claramente a los objetivos del desarrollo sostenible 14 vida submarina el 1 el fin de la pobreza el 8 trabajo decente y crecimiento económico o el 5 igualdad de género pero cuando hablamos de la pesca no solo podemos pensar en el barco y el pescador tenemos que pensar en todo ese conglomerado socioeconómico que rodea al barco y que desde la construcción naval desde los astilleros hasta que llega al consumidor final a través de las pescaderías hay un montón de eslabones que son importantísimos por supuesto en los puertos todo lo que es necesario para que salga el barco a pescar con un montón de industria auxiliar alrededor los pescadores en los mercados ya en las lonjas la fábrica de hielo toda la logística necesaria para que se pueda vender el pescado el transporte los transportistas los procesadores los mayoristas los pescadores los importadores los exportadores en definitiva muchísimas personas que dependen de esta actividad pesquera y en algunas zonas costeras más de la mitad de los empleos locales son gracias al sector pesquero de nuevo sigo con datos de la FAO se hablaba aquí de la importancia del hambre cero de ese objetivo que tenemos que intentar todos alcanzar bueno pues el pescado hoy en día representa el 20% de la proteína animal consumida diariamente por 3.100 millones de personas y el 15% para otras 1.300 millones de personas la FAO lo dice continuamente la población mundial sigue creciendo y todas estas personas que van a nacer en los próximos años necesitan ser alimentados y además de forma saludable de 7.300 millones en 2020 a lo mejor pasamos a 10.000 en 2050 necesitamos aumentar en los próximos años más de un 70% la producción de alimentos y para ello es fundamental lo que yo resumo en estas 8 imágenes de aquí en estos 8 mensajes en primer lugar lo que hemos llamado la nueva narrativa la pesca no es el problema es parte de la solución ¿por qué lo digo así? porque muchas veces en los medios de comunicación vemos como la imagen que sale reflejada de la pesca es la imagen de la sobreexplotación de la destrucción del robo en las aguas de determinados países y es verdad que en determinados lugares luego lo veremos hay sobreexplotación es verdad que en algunos sitios no se hacen bien las cosas pero yo creo que no se puede generalizar los pescadores en general en el mundo están haciendo un esfuerzo importantísimo para hacer las cosas bien no siempre no siempre es posible pero intentan hacer las cosas bien por eso hablamos y algunos lo han calificado como la proteína es una proteína perfecta y sin duda la proteína animal más saludable que existe en el mundo y con menor impacto de huella de carbono en su producción si hablamos de por qué es un superalimento natural vemos que contiene un montón de vitaminas la A la B la vitamina B12 un montón de minerales el calcio el hierro el yodo el zinc el selenio y por supuesto los ácidos grasos omega 3 que yo creo que son muy conocidos y todo esto permite tener unas grasas insaturadas premium que ofrecen un montón de beneficios para la salud si se consume mucho pescado y marisco mejoramos la función cerebral neuronal cognitiva y psicológica mejoramos la piel evitando enfermedades producidas por el envejecimiento de la piel o del o el sistema inmune generando menos alergias o incluso menos cáncer también ayuda a tener mejor las articulaciones con la regeneración y elasticidad de nuestras articulaciones la función visual claramente mejora la situación de la retina o la función eléctrica y mecánica del corazón gracias al consumo de pescados y mariscos podemos tener muchos menos infartos muchos menos problemas de corazón o el famoso metabolismo de las grasas el colesterol malo se reduce y en cambio incrementa el colesterol bueno y mejora también por último la función de la sangre consiguiendo una mejor circulación y para mí lo más sorprendente de todo en estos momentos duros de tristeza que hemos vivido y que estamos viviendo todavía en el mundo el consumo de pescados y mariscos está demostrado científica y médicamente que produce felicidad el doctor Aldama López y no lo digo yo lo dice este doctor que es un cardiólogo gallego dice textualmente que el consumo de pescados y mariscos induce cambios en las neuronas que mejora la conexión de las mismas y produce un neurotransmisor llamado serotonina bueno si está demostrado que produce felicidad yo creo que es importante que en todos los países del mundo se intente consumir el mayor número de pescados y mariscos capturados de forma sostenible para incrementar la felicidad del mundo y como decía antes estamos hablando de la proteína animal con menor impacto de huella de carbono en su producción a pesar de que seguimos trabajando para intentar reducir las pocas emisiones que se emiten ya por ejemplo desde los años 90 y solo en la Unión Europea hemos conseguido reducir más de un 40% esas emisiones o el consumo de gasóleo se ha reducido entre 2009 y 2017 en un 17% hay varios estudios que hablan de este inferior impacto en huella de carbono de los pescados y mariscos en comparación con otras proteínas animales y esto es algo que yo creo que la población en general tiene que tener en cuenta el segundo mensaje para mí importante es que la gestión funciona está demostrado que con la colaboración con los científicos los gobiernos el propio sector y algunas ONG que apuestan por el desarrollo sostenible por el uso sostenible de los recursos pesqueros la gestión funciona y el objetivo nuestro tiene que ser conseguir que el 100% de los océanos estén gestionados de forma sostenible y lo digo porque estamos viendo una corriente últimamente de solicitudes de campañas de solicitud de prohibición de la actividad pesquera no creemos que ese es el camino erróneo si queremos seguir alimentando al mundo de forma sostenible tenemos que apostar por la gestión sostenible de los recursos pesqueros datos también de nuevo de la FAO en el último informe Sofía nos dice claramente que el 65,8% de las poblaciones de peces del mundo se han explotado de forma sostenible pero que en cambio hay un 34,2% que todavía están sobre explotadas ahí sobre todo es donde tenemos que actuar la FAO también dice que sobre todo ocurre en países asiáticos en países en desarrollo de África también en países desarrollados pero menos y como digo ahí es donde tenemos que actuar en esa colaboración de científicos sector administraciones para intentar que eso que está ahora mismo en rojo o en naranja se transforme en verde porque eso va a generar mayor alimento y mejor empleo mejores condiciones para todos pero lo bueno es que está demostrado que la buena gestión da sus frutos tenemos he puesto aquí algunas historias de éxito en la Unión Europea que es donde yo estoy más cercano donde yo donde yo vivo por ejemplo en el Atlántico Nordeste más del 99% de los desembarcos de poblaciones gestionadas por la Unión Europea en el Atlántico Nordeste se pescaron de forma sostenible en los últimos 11 años tenemos un 50% más de peces en el Atlántico Nordeste de lo que teníamos hace 11 años eso no ha sido fruto de la casualidad tampoco se ha reducido un 50% la presión pesquera el esfuerzo pesquero en dicha zona pero es que hemos pasado de poblaciones de peces que estaban en rendimientos máximo sostenibles hace 10 años en 5 poblaciones hemos pasado a 62 es decir que hemos incrementado considerablemente la biomasa y la gestión sostenible otro caso de éxito clarísimo es el del atún rojo del Atlántico Este donde en estos momentos se encuentra con la biomasa mayor desde que se tienen datos históricos y eso ha sido gracias a la gestión pesquera y en esa gestión pesquera hemos aplicado un montón de medidas para mejorar la selectividad de los artes de pesca para que el impacto en el fondo marino sea reducido por ejemplo como la imagen que tenemos a la izquierda de las puertas de arrastre voladoras o las rejillas separadoras para intentar que cuando se captura alguna especie que no desee se pueda escapar porque tenga un tamaño determinado o líneas espantapájaros para que las aves marinas no se queden enganchadas los dispositivos de concentración de peces no envallantes para evitar la captura occidental de tortugas o de tiburones se ha cambiado el patrón de explotación de determinados artes de pesca como el palangre de superficie y se han dado un montón de cursos de formación a patrones y tripulantes para liberar en caso de que se ha capturado accesoriamente o no intencionadamente de tortugas de tiburones de mantarrayas he puesto esta diapositiva porque me parece que es la tendencia en la que estamos hacia el futuro lo que hemos llamado el barco digital ahora se está apostando mucho por la digitalización queremos tener tenemos un serio problema de escasez de tripulantes en nuestros barcos los tripulantes echan de menos la conciliación con sus familias y gracias a las telecomunicaciones vía satelitales y con estos equipos que se están instalando algunos ya lo tienen en otros se están instalando a bordo de nuestros barcos esa conciliación al menos de forma online la podemos tener accediendo a las aplicaciones que tenemos normalmente todos acceso en tierra a través de internet con videollamadas pero es que además de eso permite también con todos los sensores que tienen incrementar la seguridad y optimizar la eficiencia de la pesca de una forma muy 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 importante y las nuevas tecnologías están sirviendo también para por ejemplo tener una trazabilidad garantizada del producto se están utilizando ya blockchain el sistema blockchain en nuestra flota definitiva hay un montón de aspectos relacionados con las nuevas tecnologías que se aplican en nuestros barcos y que contribuyen al desarrollo de una pesca sostenible el tercer mensaje que quería trasladar era la importancia de conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad que no ponemos en duda y que tiene que estar por supuesto en el eje central de cualquier política pesquera pero hay que compatibilizarlo con el uso sostenible de los recursos naturales para garantizar la seguridad alimentaria no creemos que la conservación pura y dura sea el objetivo que se debe perseguir sino ese equilibrio entre los tres elementos que yo menciono aquí el cuarto mensaje es el de que los pescadores importan la importancia del capital humano de la dimensión social por eso nosotros estamos promoviendo la ratificación del convenio 188 de la organización internacional del trabajo para que todos tengamos unas mínimas condiciones unos mínimos estándares desde el punto de vista social que hagan la vida de las personas a bordo de los barcos más agradables que en aquellos casos en los que todavía desgraciadamente tenemos trabajo forzoso o esclavitud moderna como desgraciadamente tenemos todavía hoy en día en algunas flotas del mundo porque estamos hablando de unos profesionales valientes sacrificados que normalmente tienen una tradición familiar y que muchísimos de ellos viven viven exclusivamente su alimento proviene exclusivamente de esta actividad pesquera en quinto lugar a ver si pasa la diapositiva perdóname no sé qué ha pasado aquí pero se ha quedado parado esto bueno lo resumo brevemente en quinto lugar el mensaje es la necesidad de tener un level playing field las mismas condiciones del juego para todos reglas similares trato igualitario que permita una competencia leal evitar las situaciones que se dan desgraciadamente en el mundo de competencia desleal de flota con unos costes de explotación muy bajos porque tratan muy mal a sus tripulaciones porque no hacen un mantenimiento adecuado del barco porque no ofrecen las condiciones de seguridad a bordo necesarias porque las condiciones sanitarias no son las deseables pero que compiten en las mismas aguas y en los mismos mercados que las flotas que intentan tener esos estándares o que cumplen esos estándares eso es algo fundamental para garantizar una pesca sostenible en el futuro y garantizar que los sistemas alimentarios contribuyan a esos objetivos de los que se ha hablado a lo largo de toda la sesión en sexto lugar la importancia de la gobernanza internacional el foro de hoy yo creo que es una muestra de ello Santa Sede la FAO y organizaciones privadas como la nuestra como ICFA europeos de pesca colaborando en un mismo fin aquí tenemos a Naciones Unidas a la FAO a las organizaciones regionales de pesca que son fundamentales para la gestión de la pesca sobre todo en alta mar todos los debates que se están produciendo desde hace unos años con el BBNJ la biodiversidad más allá de las aguas jurisdiccionales la convención de biodiversidad CITES en fin hay tantas organizaciones internacionales que deciden cuestiones relacionadas con la pesca y donde el sector también tiene que estar presente para dar su opinión y defender sus intereses en séptimo lugar y es el penúltimo de los mensajes que quería lanzar hoy los objetivos del desarrollo sostenible son objetivos ambiciosos ahora se están revisando creemos que tienen que seguir siendo ambiciosos pero realistas y alcanzables no podemos pretender tener unos objetivos que no vamos a poder alcanzar nunca y que lo único que va a provocar es que la propia industria el propio sector pesquero acabe frustrado porque es imposible que se cumpla y que además se han acusado de que no se ha podido cumplir por ello apostamos por que sean ambiciosos pero realistas y alcanzables y por último y esto ya es un mensaje como sector yo creo que tenemos que ser racionales y creíbles y tenemos que tener ese compromiso de colaboración con las instituciones con las ONG respetables ser proactivos no reactivos y ofrecer soluciones en vez de negarlas como muchas veces hemos hecho en los últimos años bueno yo creo que eso debería debería olvidarse lo paso así de esta manera y así terminamos ya una simple fotografía de pescadores trabajando durante la pandemia en la izquierda con un barco de arrastre arriba con un barco de cerco por la noche y abajo a la derecha con un barco con un arte de pesca muy bonito que es la almadraba que tenemos aquí en España y con el que se pesca atún rojo y que es una es una maravilla con esto termino simplemente les deseo a todos que disfruten comiendo pescados y mariscos que como decía antes serán más felices y deseo la felicidad de todos ustedes muchas gracias gracias a ti gracias a ti dottores cercheremo de parte solo de este suyo último consiglio el más posible de gober de los frutos de mar sobre todo todo lo que nos ha dicho hoy creo que como decir c'è esta atención de la parte de todos nosotros gracias y a este punto estamos al último intervento Davide Raffa que es el direttore del CELIM de un organizzación de la Fox porque como sabéis es una de las organizzaciones que participan al Forum Roma Davide debería presentarles un experiencia concreta que ellos fanno en el campo y entonces será seguramente interesante porque va a ver cómo las diferentes organizaciones y después son impegnate concretamente en el campo gracias y la palabra a Davide Raffa gracias a vos buen pomeriggio y agradezio los organizzadores y a quien me ha precedido no le cito porque ha pochísimo tiempo entonces evitamos de sprecarlo condivido anch'io una presentación así que acompaña lo que vado a raccontar eccoci qua allora quello che presento rapidamente oggi sono degli piccoli esempi di quello che ONG come Celim che fa parte della federación della Foxy ormai realizzano da decenni e diciamo su tematiche che sono sempre state care a noi e che sono arrivate alla ribalta recentemente collegate ai cambiamenti climatici ma noi da sempre lavoriamo sul settore agroalimentare con tutte quelle attenzioni che sono state citate ricordo ancora nel 94 quando lavoravo in Zambia la diocesi con cui collaboravo aveva un programma di agricoltura sostenibile parliamo del 1994 adesso sembra che queste siano le soluzioni per il futuro ma già qualcuno aveva visto bene giusto da tempo sono piccoli esperienze chiaramente siamo consapevoli di questo che non cambiano il mondo ma sono delle gocce senza le quali probabilmente il terreno sarebbe più arido l'altra premessa prima di passare a volare nei due paesi che vi presenterò è che da sempre e sempre di più quando parliamo di produzione agroalimentare nei paesi dove lavoriamo noi consideriamo tutta la filiera non si parla più di migliorare la produzione del singolo agricoltore perché si riempie la pancia e riempie la pancia di tutta la famiglia quindi mangi e quindi l'agricoltura di sussistenza ma si cerca ormai di pensare a produrre in modo adeguato e sostenibile produrre anche un po' di più rispetto ai propri bisogni in modo tale da poter magari trasformare conservare e trasformare per poi magari avere accesso al mercato e in questa seconda fase è chiaro che l'agricoltura da solo non basta più e va messo in rete in forma di cooperative o altre associazioni prendiamo l'aereo e partiamo andiamo in Kenya in Kenya negli ultimi tre anni abbiamo collaborato con la Caritas italiana e Caritas Nairobi per rafforzare un intervento che loro avevano avviato precedentemente sulla filiera lattiero-casearia una filiera che contribuisce in modo significativo al PIL agricolo del Kenya e coinvolge molte persone con consumi di circa 120 litri all'anno che è previsto che raddoppino nei prossimi 10 dovuti all'incremento demografico ma anche a un miglioramento delle entrate delle singole famiglie l'attuale produzione per vacca al giorno è di circa di 5 litri noi chiaramente lavoriamo con piccoli allevatori che hanno una o due vacche e abbiamo puntato a risolvere i principali problemi legati a un basso livello di produzione e di qualità del pescato scusate se è stato influenzato dal presentatore precedente del latte quindi lavorando sulla formulazione dei mangimi ma anche sulla possibilità del miglioramento della razza e sulla disponibilità dell'acqua che è fondamentale per produrre latte e con uno sguardo in generale al fatto che il singolo agricoltore non fa solo l'allevatore ha tutto un sistema di produzione una micro impresa uno small scale farmer e quindi anche gli altri aspetti sono stati curati in modo tale che avessero un impatto minimo sull'ambiente fossero sostenibili le altre problematiche legate alla produzione del latte abbiamo riscontrato erano legate al fatto che spesso i piccoli produttori sono in balia di chi va nel villaggio a comprare non sono organizzati i punti di raccolta sono sparsi sul territorio e le strutture destinate poi alla trasformazione la conservazione e la trasformazione e la rivente del latte erano sottodimensionate e non organizzate perché la diocisi e la caritas in Nairobi aveva già avviato un'iniziativa di questo tipo se vogliamo per così dire incasellare quello che abbiamo cercato di fare in questo triennio rispetto alle linee di azione dei vertici dell'ONU abbiamo visto abbiamo fatto questo esperimento e abbiamo visto che secondo le quattro linee principali si è cercato di aumentare la disponibilità e la qualità del latte e allo stesso tempo garantire dei prezzi bassi perché anche chi non se lo può permettere possa avere accesso a questo tipo di alimento avere un'attenzione anche dal punto di vista ambientale quindi non ricorrendo a contenitori plastici avere uno sguardo a tutto tondo sulla farm sulla farm dei nostri agricoltori quindi pensare a produrre energia in modo sostenibile avere un occhio a un discorso di rinforestazione e dell'uso dell'acqua e avere un'attenzione poi appunto agli ultimi vulnerabili alle fasce della popolazione che spesso sono tagliati fuori o dalla produzione stessa o dal commercio perché è in mano a intermediari le azioni che hanno contraddistinto questo triennio di attività si sono focalizzate per una prima parte su miglioramento dei foraggi miglioramento delle razze con inseminazioni artificiali l'accesso al credito per questi small scale farmer perché migliorassero la propria situazione della propria impresa una serie di interventi per ridurre l'impatto ambientale e poi un pacchetto di azioni più organizzative e gestionali per cui si sono creati dei punti di raccolta del lato dove tutti i singoli elevatori portavano il loro prodotto e si riducessero i tempi morti della catena del freddo e poi si è potenziata e sottorata e ampliata la centrale di lavorazione del latte in modo tale che il surplus prodotto dal singolo elevatore avesse un canale sicuro di commercializzazione non più seguito da lui ma da un intermediario che in questa casa è la Caritas di Nairobi che si fa carico del raccolto del latte di tutti gli elevatori e poi metterli sul mercato i risultati che abbiamo ottenuto in tre anni sono piccole cose ma comunque per noi significative rispetto alla produzione del latte quindi il latte raccolto e trasformato e venduto è passato da 1.500 a 6.700 litri al giorno abbiamo predisposto in molti slum di Nairobi almeno 45 distributori automatici di latte quindi limitando al massimo la produzione di contenitori plastici dal punto di vista ambientale nelle farm dei nostri allevatori sono stati installati 30 biodigistori per produzione di energia piantumati 74.000 avocado e avviati sistemi di coltivazione utilizzando tecniche di riduzione delle perdite d'acqua per dilavamento per evaporazione quindi con le tecniche di zaipit o potoli dal punto di vista economico l'introito annuo dei produttori è raddoppiato e gli allevatori coinvolti sono passati da 166 a più di 600 riprendiamo l'aereo se riusciamo a far partire le prossime e ci spostiamo in Mozambico dove interveniamo ormai da parecchio tempo quello che parliamo adesso è un progetto dell'ultimo triennio ma da più di 10 anni siamo in Zambesia che è una delle aree più povere una delle province più povere del Mozambico e questi sono i dati di povertà che spesso anzi quasi sempre è collegato a un discorso di malnutrizione la malnutrizione è spesso collegata alla alla produzione agricola che nel corso del del nostri studi prima di realizzare l'iniziativa ha evidenziato queste problematiche il fatto che ci fosse pochissima diversificazione quindi si produce soltanto mais riso maniocca ma non si cerca di produrre altro c'è poca assistenza tecnica da parte di operatori addetti dei ministeri e i processi di post raccolta conservazione trasformazione sono molto limitati quindi anche se si riuscisse a produrre di più rispetto ai propri fabbisogno il rischio che gran parte dei prodotti vada male è molto molto alta come prima ripetendo il giochino di abbinare quello che erano i nostri obiettivi a quanto poi si è realizzato comunque gli obiettivi che avevamo gli obiettivi dicevo dell'azione del vertice dell'ONU abbiamo provato appunto a aumentare la disponibilità di miele e pesce perché abbiamo lavorato sulle filiere di miele e pesce nelle zone di intervento garantendo appunto questo tipo di alimenti a prezzi accessibili e come è stato spiegato che ha parlato prima di me anche per garantire dei principi nutritivi fondamentali nella dieta di ognuno rispetto a una situazione più di attenzione all'ambiente e alle energie rinnovabili nei sistemi di produzione di avanotti quindi piccoli pesciolini da cui poi parte l'allevamento dei pesci più grandi si sono cercate di utilizzare e applicare tecnologie rispettose dell'ambiente e sostenibili così come l'attenzione nella selezione dei beneficiari e nel coinvolgimento dei beneficiari alle fasce più deboli e vulnerabili della popolazione le azioni quindi delle due filiere latte e miele scusate pesce e miele hanno riguardato sia dal punto di vista dei villaggi dove abbiamo lavorato la creazione di vasche per l'allevamento della tilapia e la creazione di sistemi di conservazione del prodotto una volta pescato quindi forni essiccatoi del pesce anche questi migliorati per evitare appunto il consumo di carbone e l'utilizzo di plastiche e appunto invece dei servizi forniti ai villaggi per questi allevamenti si è creata una vanotteria un mangimificio adottando delle tecniche anche facendo delle scelte tecnologiche sostenibili con rispetto all'ambiente soprattutto per quanto riguarda il consumo dell'acqua in termini di apicoltura si è praticamente si è stuplicato il numero di persone che sono state coinvolte nei progetti precedenti abbiamo coinvolto altri 10 100 apicoltori abbiamo distribuito 600 arnie e in più si sono creati e attrezzati i laboratori di filtrazione e lavorazione del miele che sono centralizzati chiaramente non il singolo apicoltore fa tutto il processo ma convergono in una cooperativa che fornisce questo servizio che cura anche poi la commercializzazione anche rispetto a questo secondo progetto i risultati raggiunti sono significativi anche se sappiamo limitati per la nostra esperienza comunque dal punto di vista del pesce sono state costruite 80 vasche per l'allevamento della tilapia e sono stati prodotti circa 20 tonnellate di pesce all'anno per quanto riguarda il miele invece si è passati da 5 a 15 chili all'anno per apicoltore per quanto riguarda appunto l'impatto sudo ambiente la vanotteria che si è costruita è stato pensato un sistema di ricircolo dell'acqua dopo purificazione che permette di ridurre al minimo il consumo e dal punto di vista delle entrate il reddito degli piscicoltori è aumentato del 30% quindi gli apicoltori del 5% ho già finito e volevo rubarvi altri due minuti per due osservazioni collegandomi a qualche intervento precedente questi sono per il poco che sia per il poco che sono sono comunque delle piccole azioni così come ci veniva chiesto di iniziare a implementare negli interventi precedenti non sono imprese impossibili sono possibili e noi siamo una dimostrazione che si può riuscire a fare queste cose anche se in dimensioni chiaramente limitate il ruolo dell'NG in genere è questo fare delle sperimentazioni e ci si augura che poi a livello più alto chi ha potere di poterli adottare e espandere a livello macro lo faccia il vantaggio nostro è quello di essere piccoli lavorare con la gente condividere con loro un pezzo della nostra vita perché andiamo a vivere lì dove vivono loro e questo permette poi di fare in modo che i nostri interventi siano accolti positivamente e per cui i risultati che si ottengono sono figli anche di questo tipo di approccio ringrazio tutti in ultimo anche i traduttori che hanno sopportato la mia velocità grazie a tutti grazie per questa esperienza sicuramente interessante io ho scoperto alcune cose anche sulla pesca ultimamente quando presentavi alcune iniziative che mi sfuggivano quindi penso che sia stata interessante mostrare queste piccole cose come le hai chiamato tu che però sono quelle cose che negli interventi precedenti sono state anche ampiamente sollecitate adesso a questo punto ci sarebbe un colloquio con gli oratori però vedo che i tempi sono molto in avanti e allora io penso di non fare niente di grave se do la parola invece a Monsignor Fernando Cicaregliano per le conclusioni stare un po' anche nei tempi che ci siamo dati insomma ecco e allora la parola a Monsignor Cica grazie caro dottor Conso signor cardinale cara sora Alessandra cara dottoressa Maria Elena Semedo dottor Garat dottor Rafa grazie a tutti voi e desidero ringraziare di vero cuore a quanti si sono impegnati prodigati per la buona riuscita di questo seminario di studi anche a quelli che hanno veramente curato tutta la parte tecnica di traduzione permettete soprattutto una parola a sua eminenza al cardinale Turkson sempre paterno sempre veramente accogliente sempre disposto a contribuire perché la dottrina sociale della chiesa perché la parola della santa sede possa risuonare anche in questi ambiti internazionali grazie a tutti gli oratori per il prezioso contributo e per aver arricchito la discussione odierna con parole e spunti illuminanti grazie che infine a tutti voi che con la vostra partecipazione virtuale ci permettete di condividere alcune riflessioni affinché gli sforzi e le iniziative promosse finora non cadano nell'oblio consentitemi dunque qualche breve commento a chiusura di questo ricco incontro proficuo e partecipativo come è stato riportato in precedenza dagli illustri relatori il pre-summit e il summit sui sistemi alimentari ci hanno a gran voce messo in guardia sul fatto che per combattere la fame e raggiungere l'obiettivo fame zero sia necessario modificare le strategie attualmente utilizzate affinché i sistemi alimentari divengano più resilienti inclusivi e sostenibili sintetizziamo insieme il significato di questa espressione innanzitutto il papa ci ha insegnato che ogni singolo aspetto della generale crisi che stiamo vivendo è estremamente concatenato agli altri e che non cogliere la complessità delle interrelazioni della realtà rischia di portarci ad assumere quale chiave di lettura della contemporaneità quella mentalità tecnocratica denunciata dall'enciclica laudato sì che nel tentativo di risolvere un problema ne crea altri collaterali per questo per porre definitivamente fine al flagelo della fame non dobbiamo adottare solo l'approccio quantitativo delle risorse alimentari a disposizione ma dobbiamo assumere comportamenti e soluzioni che devono essere adottati con lo sguardo aperto alla interdependenza e alla condivisione che considerano i numerosi altri gravi problemi esistenti come quello dei cambiamenti climatici così tanto in questo seminario sottolineato quello dei rifiuti accumulati e dell'inquinamento quello della diminuzione dell'acqua potabile molto preoccupante e quello della perdita della biodiversità che fare di fronte a questa drammatica situazione come farsi promotori del cambiamento questo seminario di studio odierno ha voluto porre l'accento su tre aggettivi che devono colorare di significato la trasformazione dei sistemi alimentari che è quello che tutti vogliamo ed è quello che ha veramente spinto le Nazioni Unite a organizzare sia il pre che il sammi sui sistemi alimentari questi oggi più che mai devono divenire resilienti inclusivi e sostenibili resilienti perché gli sconvolgimenti attuali provocati dalle ingiustizie sistemiche richiedono il coraggio della ripresa con vigore e rapidità per il bene di ciascuna persona umana come ha affermato il cardinale segretario di stato Pietro Parolin nel discorso all'ultima Assemblea Generale delle Nazioni Unite per rispondere in modo efficace alle difficoltà esistenti dobbiamo affrontarle con una rinnovata speranza basata sugli abbondanti semi di bene nella nostra famiglia umana come quelli eroicamente seminati in risposta alle dimensioni medica sociale economica e spirituale della pandemia è pertanto molto importante che il diritto al cibo venga riconosciuto tanto ai gruppi tradizionali quanto a quelli vulnerabili emergenti come quello soprattutto dei rifugiati bisogna poi che i sistemi alimentari e le diete vengano organizzate in modo da essere positivi per l'ambiente e per la salute umana creando legami più forti tra attori e attività urbane e rurali e beneficiando così del reciproco scambio dei idee e di risorse i sistemi alimentari devono essere in secondo luogo inclusivi perché senza un coinvolgimento di tutti gli attori interessati non si potrà parlare in modo compiuti compiuto di sistemi alimentari per questo la lotta la fame e la trasformazione dei sistemi alimentari sarà possibile solo per mezzo della collaborazione di tutti gli attori soprattutto del settore pubblico di quello privato delle ONG della società civile organizzata delle università dei giovani eccetera i lavori del pre-summit ci hanno però insegnato che tre categorie di gruppi sociali devono essere urgentemente inserite nella discussione lo ha sottolineato Suor Alessandra nella sua relazione perché perché i quattro verbi di cui fa menzione Papa Francesco nella Fratelli Tutti cioè accogliere proteggere promuovere ed integrare devono riguardare anche e soprattutto loro in quanto gruppo gruppi vulnerabili e questi gruppi vulnerabili sono in primo luogo le donne piccole produttrici delle aree rurali a cui deve essere garantito l'accesso alla terra e al credito così che possano fungere da catalizzatrici e facilizzatrizi della transizione in secondo luogo i giovani che rappresentano i leader di oggi non di domani perché la trasformazione dei sistemi alimentari è anche una questione di giustizia tra le generazioni e naturalmente in terzo luogo dei popoli indigeni che rivestono un ruolo fondamentale nel preservare e custodire la natura in terzo luogo i sistemi alimentari devono essere sostenibili perché i sistemi alimentari devono essere trasformati alla insegna della durevolezza e della longevità la loro mutazione deve quindi avvenire nel rispetto dell'ambiente dei lavoratori e delle generazioni future sostenibilità che quindi va declinata nella sua accezione più ampia ambientale economica e sociale consentendo di costruire nuovi modelli di sviluppi basati sulla cura e non sullo sfruttamento della nostra casa e famiglia comune per attuare questa cura è necessario che l'essere umano assuma consapevolmente la sua vocazione di essere amministratore responsabile della terra perché come ha affermato Papa Francesco all'evento di alto livello dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa quando l'essere umano si pensa come il Signore dell'Universo quando non riconosce più la sua giusta posizione in relazione al mondo giustifica qualsiasi tipo di spreco sia ambientale che umano e tratta le altre persone e la natura come meri oggeti l'essere umano ha pertanto dei doveri verso l'ambiente e il prossimo e deve far fronte alle responsabilità che ha verso le generazioni future garantendo che il mondo attuale sia sostenibile al domani di fronte all'obiettivo chiaro che i sistemi alimentari divengano resilienti inclusivi e sostenibili qual è la strategia giusta da attuare anche su questo il santo padre papa francesco ci dà delle direttive chiare nella laudato sì il papa ci propone quale metodologia giusta ad attuare quella del vedere giudicare e agire e anche noi dopo aver constatato la situazione attuale averla valutata come critica e preoccupante abbiamo deciso di sottotitolare questo incontro odierno con una locuzione esemplificativa dalle parole ai fatti il mondo odierno è stanco di bla bla il mondo odierno è stanco di promesse non compiute di parole esprecate questo è importante dirlo durante i diciotto mesi di preparazione di questi eventi di rilevanza mondiale cioè del pre-SAMMI e del SAMMI si sono dette tante tante parole impegni strategie obiettivi traguardi ora è il momento di agire di dare concretezze alle promesse effettuare effettuate lo dobbiamo fare in modo coordinato nella condivisione degli sforzi e degli intenti in armonia con tutti gli attori lo dobbiamo fare per noi stessi per i nostri cari per la famiglia umana perché senza una trasformazione equa e sostenibile dei sistemi alimentari e senza un cambiamento delle nostre mentalità sulla essenzialità del tema dell'alimentazione per una vita dignitosa sana e in armonia con la natura non ci sarà un futuro ma nemmeno un presente voglio pertanto concludere questo mio intervento non soltanto ringraziato ringraziando tutti voi ma soprattutto portando qui tra di noi la parola di Papa Francesco egli ha detto ai giovani riuniti nel foro mondiale della alimentazione all'inizio di questo mese di ottobre celebrato presso la FAO queste parole sagge e lungimiranti il loro dono per noi consiste cioè il dono dei giovani per noi consiste nella portare soluzioni innovative per affrontare i vecchi problemi e nel coraggio di non lasciarsi limitare da un pensiero miope che si rifiuta di cambiare e questo vuole essere il nostro auspicio anche per ciascuno di noi qui presenti che impariamo a non sederci nelle nostre routine e nella conviczione che i problemi non sono stati finora risolti e mai si districheranno ma che coltiviamo tutti una mentalità giovanile pronta a reagire con speranza e creatività nella consapevolezza che il nostro contributo alla causa della fame nel mondo è unico e insostituibile per questo bisogna passare dalle parole ai fatti grazie di cuore signore è arrivato quindi il momento di passare dalla parola ai fatti e quindi buon lavoro a ciascuno di noi grazie ai relatori che ci hanno aiutato in questa riflessione odierna grazie a tutti voi che avete partecipato e arrivederci a presto buon lavoro grazie a tutti